Lì è più, parliamo dell'Isis, un problema certamente più di timore psicologico, nel senso che non credo che condizioni aree nei quali noi esportiamo, certamente non è piacevole, è uno stato d'animo che però abbiamo vissuto anche in altre occasioni, credo che però bisogna essere abbastanza razionali, io un'invasione dell'Italia non la vedo onestamente, mi preoccupano di più altre situazioni, quella russa e un po' meno quella greca perché mi pare che siamo in presenza di fibrillazioni che però alla fine al di là di qualche speculazione, qualche up and down non avrà conseguenze sui fondamentali, la Grecia è troppo piccola per fare troppi danni.